Oggi io leggo con te Malavita, romanzo che parla di donne, delle invisibili, quelle che nessuno vuole vedere, quelle per la quale anche la mia città e tutte le città si vergognano. Malavita è il romanzo che parla di due generazioni di donne che ostacolate dal mondo maschile solo per il fatto di avere un bel viso e di non essere donne appoggiate da nessuno finiscono in strada a fare le prostitute. Le mie non sono le prostitute imbellettate dei bordelli dell'epoca in cui è ambientato il mio romanzo, ma sono le donne che si vendono anche per due sarde pur di mangiare. A due donne faccio decidere cosa fare della loro vita, a due delle protagoniste non faccio decidere, ma non è detto che chi abbia la possibilità di scegliere sia più fortunata di coloro che hanno la possibilità di farlo. Il romanzo è molto duro, leggendolo si possono sentire anche le puzze che si respirano in questo romanzo. Alla fine del romanzo una di queste quattro donne troverà la salvezza, ma troverà la salvezza a caro prezzo.